Ancora una vittima del mare in quest'estate. Appena due giorni fa nella vicina Vasto aveva perso la vita un 78enne romano affogato per un malore. Questa volta lo scenario è quello della costa termolese, precisamente sul lungomare nord. Qui con Soberté, di 21 anni, originario della costa d'Avorio e ospite del centro di accoglienza per migranti e rifugiati dell'ex hotel Modena sul lungomare Colombo, ha perso la vita intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio. Il giovane, dopo essersi tuffato in mare in prossimità del Lido Alcione, ha cominciato a bere molta acqua, forse per un malore. I suoi compagni hanno dato subito l'allarme, vedendolo in grande difficoltà. Immediato all'intervento del bagnino del Lido, intanto arriva ad attenderlo, c'erano già i soccorritori del 118 della Misericordia, arrivati sul lungomare muniti di defibrillatore. Vani tentativi di rianimarlo, infatti il cuore del ragazzo, nonostante il massaggio cardiaco, ha smesso di battere. Si è tentato il tutto per tutto, anche con un defibrillatore portatile, ma le varie scosse non sono riusciti a rimettere in moto il sistema cardiovascolare del giovane. Il corpo del ragazzo, successivamente dagli stessi rifugiati, è stato portato nel parcheggio del Modenese per un momento di raccoglimento religioso. Tra le cause ancora da verificare ci potrebbe essere quella di un malore dovuto al digiuno che il ragazzo stava effettuando per il Ramadan, anche per chi ha detto degli altri ospiti del Modenese, il giovane era un abile nuotatore. Intanto il commissariato di Termoli ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia che ha lasciato scoinvolti tutti gli ospiti del centro d'accoglienza a Termolese e non escluso che sul corpo del giovane nei prossimi giorni venga effettuata un'autopsia presso il Santimoteo di Termoli.